Ciao e bentornati su Dr. Makeup. È uscita la nuova collezione Neve Cosmetics chiamata Notturno Desert, che si ispira a tutte le tonalità che ritroviamo in un tramonto del deserto. Quindi si compone di 7 nuove polveri minerali, dai riflessi tendenzialmente duochrome, quindi molti sfaccettati, ammalianti e davvero molto molto belli. Essendo appunto pigmenti in polvere libera, danno il meglio di sé se applicati su un primer, su una pastello, sulla loro sticky colla, che è appunto il primer specifico per pigmenti sempre di Neve Cosmetics, in modo da favorire l'adesività del pigmento e favorire soprattutto la vibrazione della riflessatura scelta. Prima di lasciarvi agli swatch di tutta la collezione, io ho raccolto in questo video anche tutte le storie che ho girato in questi giorni sul mio profilo Instagram, dove ho indossato nei vari look le diverse tonalità e in particolare vi lascio un tutorial, una realizzazione di look più completa, dove vi faccio vedere passo passo anche la realizzazione di un trucco utilizzando una buona parte delle tonalità proposte. I miei sono ovviamente dei look tendenzialmente portabili anche per l'ufficio, sono look che non richiedono una grande manualità e che richiedono alcuni un pochino più tempo di altri. Diciamo che grosso modo sono trucchi che si realizzano in una mezz'oretta, una mezz'oretta inteso ovviamente anche con la base, il rossetto, insomma tutta la realizzazione del look completo. Sono ovviamente dei suggerimenti, delle idee, io sapete non sono una make up artist ma sono una a cui piace molto giocare con i colori e con il trucco. E quindi a questo punto io smetto di chiacchierare, vi lascio invece a quelli che sono gli swatch della nuova collezione, la realizzazione del trucco completo di uno dei look proposti e anche qualche assaggio di alcune proposte con le altre tonalità. E buongiorno con questa bella novità, da oggi infatti 28 novembre è disponibile sul sito la nuova collezione notturno desert che si compone di 7 nuove tonalità di polveri minerali, polveri minerali multiuso che hanno un effetto molto diverso tra l'applicazione da sole o comunque su pelle asciutta e l'applicazione con un primer o meglio ancora con la sticky colla che come una vera e propria colla favorisce l'adesività del pigmento facendo risultare quindi il colore più pieno, più vibrante e più intenso come tonalità. Inizio la realizzazione con un pennello piatto e l'applicazione della sticky colla. Io consiglio di farne uno strato molto sottile altrimenti anziché favorire l'adesività del pigmento crea un po' di impasto e si gestisce poi meno bene. Passo poi all'applicazione della pastello occhi trench che è molto neutra come colorazione ma mi serve giusto per dare la struttura al trucco che andrò a fare poi dopo. Con l'utilizzo di un pennello piatto vado poi a sfumarne i bordi per non togliere completamente il tratto ma diffondere semplicemente il colore. Traccio bene la rima inferiore con la pastello bosco facendo attenzione a fare tanti trattini e rimarcare bene la linea di modo da rimanere ben adesa alle ciglia e fare una bella base che poi mi servirà per tamponarci sopra la polvere e ottenere quindi una maggior tenuta e una maggior intensità di colore. Inizio la costruzione del trucco con le polveri partendo dalla colorazione più scura Midnight Bazaar che vado a picchiettare sopra la matita in questo modo favorisco l'adesività del pigmento e rendo la colorazione più intensa. In un secondo tempo poi dopo andrò a sfumare i bordi perché non rimangano troppo netti. È il momento della parte più luminosa utilizzando Duns of Gold pennello piatto e sempre tamponando sopra la sticky colla il colore. Utilizzare la sticky colla mi permette di far vibrare più riflesso soprattutto di evidenziare maggiormente la parte 2 chrome del pigmento. Per la rima inferiore invece scelgo un colore decisamente a contrasto utilizzando Sahara Camping che di nuovo vado a picchiettare sopra la matita Bosco applicata prima. Questi pigmenti molti sfaccettati hanno bisogno però anche di tonalità opache che li vadano a supportare e completare nella realizzazione del look. Dalla palette masterclass prendo quindi Desaturate Soften e vado a uniformare e sfumare bene i bordi del trucco fatto prima per poi prendere la pastello Paradox con cui vado a marcare bene la rima scigliare superiore. In casa Neve Cosmetics le proposte di mascara non mancano ma lui resta in assoluto il mio preferito. È il Lash Academy che ha uno scovolino di precisione che permette di raggiungere bene tutte le sciglia, aprirle bene a ventaglio e dare una bellissima definizione allo sguardo. Per fissare la base vado ad utilizzare la Drama Matte, una cipria perfezionatrice dell'incarnato dal finish opaco. Applicata con il pennello a ventaglio riesco a distribuirne uno strato molto sottile. Le polveri minerali sono facilmente modulabili, infatti applicate su una base senza primer e con un pennello ben diffuso si riesce ad ottenere un effetto molto più sfumato anche da un colore apparentemente carico come scirocco rosa che infatti qui ho applicato come blush. È tornato un po' il trend che vuole labbra dal contorno leggermente più scuro del rossetto e io che sono figlia degli anni 80 non mi potevo esimere. Certo lo si rivede in una chiave un pochino più delicata e soft. Utilizzo quindi la pastello Cambridge per bordare le labbra e vado ad utilizzare poi una tonalità rosa pescata per quanto riguarda il rossetto applicando la ruby juice nel colore gin tonic. Look finito un make up che ci permette di vedere all'opera alcune delle tonalità di questa collezione ma vi lascio anche ad altri look creati in questi giorni così pian piano possiamo vedere tutti i colori indossati. Visto che stamani avevo un po di tempo per truccarmi un pochino con più calma ho utilizzato altre due colorazioni della nuova collezione notturno desert di neve cosmetics così le potete vedere anche indossate. In particolare ho utilizzato le due tonalità viola che sono good night stelle che ho utilizzato nella parte esterna e oasi quasi che invece è il bellissimo colore che vedete sulla palpebra mobile sempre applicato sopra la stichicolla perché gli dà comunque una vibrazione maggiore gli dà un'adesività maggiore e mi permette di avere un look più duraturo. Sulle labbra invece ho applicato il lippino victorian per mantenere sempre le tonalità sul viola. Per mostrarvi indossati tutti i nuovi colori della collezione notturno desert di neve cosmetics mancavano ancora all'appello due colori e quindi oggi ho scelto di sfoggiare un look per me inusuale appunto nelle tonalità utilizzando scirocco rose e cuore di sabbia. Scirocco rose l'ho utilizzato nell'angolo esterno e un pochino nell'angolo interno mentre cuore di sabbia soltanto al centro della palpebra. Scirocco rose l'ho utilizzato però anche come blush devo dire è un utilizzo che mi piace moltissimo perché dà quel giusto tocco di vivacità senza essere esagerato ed è appunto l'utilizzo che preferisco non perché non sia bello sugli occhi ma semplicemente perché è una tonalità che non fa parte delle mie abitudini di trucco. Per mantenere invece il tono anche per le labbra ho applicato la pastello labbra oxford con sopra il gloss multiform. Ho pensato una cosa in questi giorni io vi ho fatto vedere tanti look realizzati con le nuove polveri minerali della collezione notturno desert di neve cosmetics ma ve li ho fatti sempre vedere con l'utilizzo della sticky colla che è il loro primer specifico per favorire l'adesività dei pigmenti in polvere libera. Però ho detto non tutti ce l'hanno non tutti sanno usarlo non tutti hanno voglia di utilizzarlo e quindi per oggi ho scelto di fare di proporvi quindi un trucco che sia innanzitutto sicuramente più nelle mie corde come tonalità e come effetto e utilizzando uno dei colori che più mi ha colpito della collezione è Sarah camping che adesso lo già ti fa il look applicatolo però senza primer ho fatto semplicemente un pochino di base con la matita ma io quello lo faccio sempre per qualsiasi look per dargli un pochino di struttura e poi ho picchiettato sopra Sarah camping per la parte esterna invece ho utilizzato un tortora scuro della feline dreams per il trucco labbra invece ho applicato la pastello cambridge e poi ho applicato l'estasy magic che è il lip balm ph reagente che dà delle tonalità più o meno intense sul rosato per quanto riguarda invece il blush ho di nuovo applicato scirocco rose che come vi dicevo nei giorni scorsi ha una tonalità molto vibrante molto accesa molto pigmentata che sposa un po meno bene le mie abitudini di trucco occhi ma che mi piace molto in applicazione diffusa come blush grazie a tutti questi erano quindi i look che ho proposto in questi giorni sul mio profilo instagram per quanto riguarda la nuova collezione neve cosmetics notturno desert io vi lascio giù in info box il link al mio profilo se ancora non mi seguite e aspetto di sapere da voi qual è la tonalità che più vi ha colpito tra queste novità proposte vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento se vi va sul canale per il prossimo video